Buonasera siciliani e siciliane e ben ritrovati al Tg Antudo. Apriamo l'edizione di oggi con una notizia che sta facendo infuriare i lavoratori AMAT di Palermo. I vertici della società partecipata di via Roccazzo hanno espresso un deciso no al taglio dei contratti dei lavoratori proposto del Comune. L'AMAT infatti avrebbe dovuto sottoscrivere la decurtazione del 10% sui contratti fatta dall'amministrazione comunale e avallata dal Consiglio. Questo non è avvenuto per volontà della partecipata, la quale si è schierata contro la direttiva. Il Comune di conseguenza ha deciso di congelare le risorse della società bloccando anche gli stipendi. La ragioneria ha bloccato l'emissione della fattura da 3,7 milioni di euro a copertura del trimestre, maggio-giugno. I lavoratori sono sul piede di guerra. Questa situazione, affermano i sindacati, sta mettendo a rischio la sopravvivenza di una delle principali aziende municipalizzate della città, che gestisce un servizio fondamentale ed essenziale per i cittadini. Ancora una volta si mettono a rischio stipendi e posti di lavoro. Non si tratta soltanto di recare danno ad una delle aziende municipalizzate della città, ma di colpire direttamente le famiglie palermitane. Lo scontro tra istituzioni locali e società grava sempre sulla pelle degli operai, gli stessi che la mattina si svegliano e faticano per la propria città al fine di riuscire a portare il pane a tavola. Cambiamo argomento e parliamo della riqualificazione di alcuni comuni siciliani. Lo scorso luglio il Presidente del Consiglio ha firmato un decreto di stanziamento di 160 milioni di euro destinati alla riqualificazione di 47 piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti. La cifra pattuita coprirà i costi per il recupero e la valorizzazione dei centri storici. I comuni selezionati sono stati scelti in base a fattori come retratezza economica, dissesto idrogeologico, abbassamento del numero dei residenti, difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri metropolitani. Il decreto in questione, legge e realacci, prevede inoltre la messa a punto del Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, che definirà le modalità di presentazione dei progetti da parte di vari enti e le regole per la loro selezione. Il Presidente dell'Agenzia di Sviluppo del Mezzogiorno dichiara che i comuni interessati potranno intervenire anche per la messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli per la prima infanzia, per l'accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico. Il Piano ha l'ambizione di migliorare la qualità della vita nei piccoli e medi centri, creando possibilmente delle condizioni favorevoli allo sviluppo socio-economico e culturale dei comuni coinvolti. Troppo spesso, infatti, i piccoli comuni siciliani sono stati dimenticati e abbandonati dalle varie amministrazioni locali e regionali. La speranza è quindi che questa riqualificazione rappresenti, una volta tanto, un cambio di passo a tutti gli effetti. Io con questo concludo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19 e replica alle 20 e alle 21.45 su TVM, al canale 18 del Digitale Terrestre.